E' una gioia indescrivibile perché comunque a 37 anni essere ancora un protagonista in campo è per me motivo di orgoglio e di soddisfazione. A questo punto dobbiamo alzare l'asticella perché l'appetito viene mangiando, non mi stanco di vincere e vediamo anche l'anno prossimo di fare un bel campionato. Oggi autore di due gol strepitosi, chi ti vede in campo per la prima volta dice questo non ha 37 anni. Guarda, mi piace pensare che i sacrifici fatti a 20-25 anni, quando magari gli altri uscivano, i miei compagni uscivano soprattutto la domenica o in settimana e io invece rimanevo a casa pensando al futuro, adesso mi stanno ripagando perché sinceramente non ho mai fatto una vita di eccessi e insomma forse sto raccogliendo adesso i frutti. Quindi il futuro di Zirafa? Il futuro di Zirafa? Io spero e mi auguro che sia qui a Gozzano a fare un altro campionato da protagonista l'anno prossimo in Serie D. Io credo che la miscela di entusiasmo e gruppo, sicuramente i giovani che devono essere giusti l'anno prossimo, questa squadra può andare lontano. Poi dove non si sa, sicuramente io credo che la società non si tirerà indietro nel caso in cui facessimo un bis, che è quello poi che speriamo.